Giammaria, dicevamo fuori onda, ormai un'intervista al mese perché dobbiamo fare il punto della situazione Sì sì sì, ormai vedo più te che la mia famiglia, il mio commercialista Spero sempre per qualcosa di positivo, perché comunque parliamo di musica, in questo caso musica e solidarietà Sì sì sì, sempre qualcosa di positivo e oggi sono qua perché devo ammettere che mi chiamavano da un po' per giocare a calcio e ho voluto non far vedere quanto forte sono, quindi oggi sono qua per dimostrare e ovviamente sono qua per l'Emilia Romagna che siamo a sostegno di questa causa Decisamente sì, è importante, come è importante comunque anche per la tua terra Perché è vero, siamo a sostegno dell'Emilia Romagna, ma comunque anche la provincia di Vicenza in questi giorni ha vissuto delle alluvioni temporali molto forti Sì è così, insomma tutte le cose legate all'ambiente, soprattutto in questo momento storico sono cose che devono coinvolgere tutti e se si può scendere in campo, come mi hai visto fare con la musica o in questo caso nelle vesti di calciatore, si fa Senti io non posso che ringraziarti, abbiamo un modo poi di parlare di musica anche perché c'è un tour estivo e immagino qualcosa a settembre Assolutamente Grazie mille Grazie Grazie mille